La firma Ecostar è stata creata nel 1987 da Domenico Capozzo e ora è gestita dai nuovi direttori di base, Emma Capozzo, Fabio Capozzo e io. La firma è presenta in 42 paesi del mondo, con più di 500 macchine vendite al mondo. La firma è focalizzata in un'improvviso sulla selezione della macchina e la tecnologia di discrening, che è l'ecostar patente, è una tecnologia di top-of-the-edge nel mercato. La tecnologia di dinamica è un discrening hexagonal, che è un discrening di hardox, che sceglie il materiale e separa la macchina in due fraccioni o più. La firma è presenta un grande avvantaggio ai clienti, perché riducono il tempo di mantenimento della macchina e aumentano l'efficienza della separazione. La discrening è accoglata con un profilo di hardox, che ha un profilo molto lungo per la macchina e una buona performance per la tecnologia. La tecnologia di discrening di dinamica può essere installata in due le nostre macchine, la versione mobile e la versione stationaria, e può essere adattata per ogni tipo di materiale o materiale recyclabile. Questa è la tecnologia di HyperDDS, la nuova tecnologia che abbiamo presentato a l'EcoMondo, e sarà disponibile dal gennaio del 2020. La tecnologia di discrening di hyperdynamica è un grande plus per il cliente, perché ha dato la possibilità di ridurre il risultato, grazie ai flabbi che sono installati vicino a ogni discrening, che girano il materiale verso l'alto della scena e evitano il raggiungo e il bloccamento del materiale. Nel prossimo anno vogliamo continuare a crescere e aumentare la nostra partneria con i servizi e i nostri partneri per dare ai nostri clienti il miglior supporto possibile. Grazie per la visione!